Sfida vincente in lotta playoff, quella che vede Bagliardo e Arenzano scontrarsi al 25 aprile nella ventesima giornata del campionato di eccellenza. Primo tempo contratto, di studio, ma non senza qualche occasione saliente. Al quarto d'ora il Bagliardo si fa vedere con Napello, che va a colpire di testa dopo una lunga azione sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e la traversa gli nega la gioia del gol. Cinque minuti dopo ci prova anche Piccardo da posizione defilata, ma il suo tiro termina alto. L'Arenzano si fa vedere al ventiduesimo con questa bella conclusione da fuori area di Lupi, parata bene da Ferrari. Al quarantunesimo Rezzi mette giù un pallone alto, si mette in proprio e calcia col destro a chiudere, colpendo in pieno il palo. L'ultima occasione sul finire di primo tempo nasce da questa incomprensione tra Calcagno e Bruzzone. Piccardo ne approfitta, ma conclude alto. Nella seconda frazione parte forte Larenzano, con il destro dai 20 metri di Lagorio, parata di Ferrari. Rispondono i draghetti, Garbarino scende sulla fascia e mette un gran cross, Galleri sul secondo palo schiaccia alto di testa. A metà del secondo tempo Larenzano rimane in 10 per questo fallo di Calcagno che gli vale la seconda ammunizione. Ospiti che comunque riescono a collezionare subito una doppia occasione sui piedi di Cicirello. Prima serve una grande uscita di Ferrari, poi la sua conclusione termina alta. Piccardo fa girare il destro dal limite. Tiro bellissimo e altrettanto ottima parata di Faggiano a dire di no. Al secondo minuto di recupero la svolta decisiva. Il neo entrato Cosentino è costretto a provare a salvare sulla riga col braccio. Larenzano finisce così in 9 uomini e il Baillardo può calciare un penalty pesantissimo. Lo tira a battaglia che dagli 11 metri non sbaglia e fa 11 anche come i suoi gol in campionato. Finisce così. Al 25 aprile è Baillardo-Arenzano 1-0.